ciao nei video precedenti abbiamo cercato di capire per quale motivo in base ad una scelta politica lo stato italiano non è più in grado di guidare la nostra economia e quindi la nostra società e questo ci pone una situazione di grave pericolo abbiamo anche accennato a quelle che potevano essere alcune soluzioni facendo riferimento alla nostra costituzione italiana ma questo discorso noi riprenderemo approfondiremo successivamente oggi invece ti voglio evidenziare un'opportunità che si potrebbe cogliere laddove lo stato decidesse di percorrere la strada che poi ti indicherò al termine del video partiamo da una buona notizia una buona notizia di contesto si percepisce nell'opinione pubblica una crescente consapevolezza e questo il nostro obiettivo creare consapevolezza una crescente consapevolezza del fatto che questo modello economico che deriva dalla sottoscrizione dei trattati europei non funziona mette in pericolo la libertà mette in pericolo la vita sociale di un paese di una nazione infatti se la crisi economica viene ulteriormente alimentata da questi trattati anticostituzionali spinge ovviamente le persone e l'opinione pubblica a porse delle domande ma ci sono delle alternative ci possono essere delle alternative a questo modello socio economico e iniziano a rispondersi in modo affermativo sì le alternative ci possono essere però bisogna partire da una considerazione di base molto molto importante è molto semplice bisogna partecipare alla vita sociale del paese bisogna passate passami il termine fare politica interessarsi di politica interessarsi di quello che succede e del perché succede quello che succede attorno a noi perché se non lo facciamo noi se non lo fai tu in prima persona sappi che c'è qualcun altro che decide per te quindi siamo lì a subire noi non ci siamo facciamo questi video di divulgazione consapevolezza proprio per stimolare la riflessione e la partecipazione alla vita sociale del nostro paese un'altra buona notizia è che il nostro paese l'italia è prezioso ricco ed è conteso sì la nostra economia il nostro tessuto industriale reale il nostro patrimonio industriale il nostro patrimonio artistico il nostro patrimonio culturale e paesaggistico è conteso fa gola a tanti e siamo in una guerra come abbiamo detto in altro video siamo una guerra senza carammati senza militari però è una guerra fatta di trattati firmati regolamenti direttive eccetera bene oggi in questo video voglio concentrarmi sul fronte su uno dei fronti di questa guerra delimitandone il perimetro a cosa mi riferisco mi riferisco alla cosiddetta nuova via della seta che è un progetto infrastrutturale di largo respiro di commercio internazionale voluto dal governo cinese l'obiettivo di questo progetto è quello di connettere le economie dell'asia orientale con l'africa e con l'europa attraverso la creazione di un corridoio che comprende vie marittime piuttosto che vie terrestri quindi tramite ferrovie strade e quant'altro grossi grossi investimenti infrastrutturali in questa cartina vedi lo sviluppo di questo progetto e poi immediatamente da subito notare è quella che è la posizione privilegiata che il nostro paese ha all'interno di questo progetto in merito al continente africano possiamo affermare che l'africa è il continente dal boom demografico più elevato stiamo parlando di oltre un miliardo di potenziali consumatori e questo fare in modo che l'africa sarà uno dei mercati di riferimento di sbocco molto molto più importante ma attenzione non stiamo parlando di un'attività di commercio basato sul mercantilismo che vengo lì in africa a sfruttare quelle che possono essere le tue risorse senza darti la possibilità di essere autonome indipendenti per fare un esempio noi italiani la nostra capacità riconosciuta nel mondo è la capacità di trasformare le risorse e le materie prime non per caso siamo la seconda manufattura in Europa questo cosa significa significa che da parte nostra abbiamo necessità di risorse però siamo bravi a trasformare quindi siamo bravi nella ricerca e nello sviluppo di trasformare queste risorse in prodotti di qualità e di valore finito bene un rapporto con i paesi africani potrebbe essere sicuramente basato su cosa tu paese africano mi fornisci quelle che sono le risorse per poter trasformare produrre bene servizi di alta qualità io Italia che sono capace di trasformare ti trasferisco quello che è il know how la tecnologia e le capacità di produzione in modo tale che tu stesso riesca a trasformare le risorse naturali che madre natura ti ha dato nel tuo continente ecco questo è il concetto che noi come mmt intendiamo per lo sviluppo del commercio internazionale basato sul reciproco rispetto e sul reciproco sviluppo indipendente di ciascuno stato ovviamente la potenzialità di questo progetto è la chiave per qualsiasi pianificazione di politica commerciale e sarà una sfida per l'intero continente europeo e l'Italia dove è posizionata l'Italia è posizionata lì la vedete nella cartina di uno studio del del ministero del degli esteri della farnesina vedete che l'Italia si pone come il portone di ingresso e di uscita tra il continente africano e il continente europeo sicuramente una posizione molto molto privilegiata ed ambita in definitiva il nostro paese l'Italia dato il suo notevole sviluppo costiere ha una potenzialità commerciale enorme ed è esposto come abbiamo visto alle zone geografiche le regioni geografiche dove ci sarà il maggior sviluppo commerciale nei prossimi decenni e quale politico non vorrebbe approfittare o meglio ancora non vorrebbe valorizzare questa posizione naturale strategica all'interno di questo progetto di sviluppo del commercio internazionale ma questa occasione che abbiamo di valorizzazione del posizionamento strategico dell'Italia è messa a rischio da alcuni elementi vediamone alcune velocemente rimanendo soltanto nell'ambito delle relazioni commerciali questo sviluppo potrebbe non essere gradito all'Olanda che ha già il dominio del commercio internazionale via mare potrebbe non essere gradito alla Germania che già avendo acquisito una forte influenza in uno dei paesi come la Grecia che sta sulla tratta della via della seta potrebbe essere interessata magari ad acquisire anche le nostre infrastrutture le nostre autostrade i nostri porti potrebbe essere inficiata anche dal fatto di appartenere alla stessa unione europea per semplice fatto che le decisioni assunte all'interno dell'unione europea potrebbero mettere a rischio del dei rapporti commerciali un riferimento potrebbe essere le sanzioni che abbiamo dovuto rinnovare alla russia di putin che è una nazione fornitrice di energia assolutamente necessaria così come a non tutti i paesi dell'unione europea potrebbe far piacere che l'italia sviluppasse delle rotte commerciali su questo asse eurasia africa europa per sintetizzare con una metafora è come se una serie si incontrasse al bar un tedesco un olandese è un terzo soggetto compiacente ai primi due l'olandese ha paura di perdere profitti dei suoi negozi a causa dell'attività ben posizionata dell'italiano del negozio italiano il tedesco dal canto suo ambisce al controllo di tutta la piazza commerciale e già si è preso un negozio importante la grecia che fa parte e all'interno di questa piazza commerciale ecco l'amico compiacente suggerisce al tedesco all'olandese di far indebitare l'italia in modo tale che nel momento in cui non riesce a rimborsare o a difficoltà rimborsare i propri debiti loro si comprano e si spartiscono sia i negozi che le piazze commerciali dell'italia delle strutture dell'italia ecco diventando poi i padroni egemoni di questo flusso di commercio internazionale che sicuramente interesserà questi paesi nei prossimi decenni allora dimmi ti piace questa storiella a me decisamente no assolutamente no e veniamo alla terza notizia alla soluzione alla libertà perché c'è e davanti ai nostri occhi è già pronta nel suo splendido valore etico sociale ed umano sto parlando della nostra costituzione italiana questo testo stupendo ruota intorno alla persona umana valore fondante davanti al quale ogni altra esigenza utilitaristica o calcolo di profitto cede il passo non guerre non giochini di bassa lega ma il valore della persona umana è del nostro amato paese in questo perfetto strumento ci sono tutte le risposte tutti i meccanismi che consente al nostro paese di poter diventare un punto di riferimento da un punto di vista etico anche a livello internazionale noi agendo sulla costituzione italiano siamo quelli buoni siamo quelli che ci proponiamo negli scambi commerciali con i paesi esteri con la finalità di supportare il reciproco sviluppo autonomo che renda indipendente uno stato dall'altro e che non faccia in modo che uno stato diventi la colonia dell'altro oggi però questo stupendo meccanismo della nostra costituzione italiana è disattivato non funziona non gira per semplice fatto che in base ad una scelta politica lo stato ha deciso di eliminare a se stesso la possibilità di intervenire nell'economia dell'indirizzare la propria vita sociale l'economia e la società lo stato italiano sottoscrivendo i trattati europei si è privato di uno dei poteri più importanti che quello della sovranità monetaria e sottoscrivendo il fiscal compact si è privato del potere fiscale quindi non ha assolutamente nessun tipo di potere di poter intervenire all'interno dell'economia decidendo decidendo di farsi da parte in realtà lo stato ha lasciato il passo al più forte chi è più forte dal punto di vista economico e politico comanda sugli altri stati e su intere nazioni favorendo la cosiddetta grecizzazione già della stessa grecia ma di altri paesi a venire i paesi dell'eurozona affamati di una moneta che non possono emettere perché è delegata alla banca centrale europea sono costretti tra di essi a competere al ribasso quindi è una competizione che porta la qualità della vita ad abbassarsi per semplice fatto che se voglio esportare di più io devo competere sui costi del di produzione quindi significa devo svalutare il valore del lavoro che significa indirettamente andare a svalutare la vita dell'essere umano lavoratore padre di famiglia uno stato invece che è in grado di aiutare la propria economia attraverso un intervento diretto e attivo nel sistema economico tende a valorizzare le proprie risorse innanzitutto quelle umane e alla possibilità di poter creare uno sviluppo armonico anche con altri paesi però deve avere la possibilità di utilizzare gli strumenti e questi strumenti sono gli strumenti di politica monetaria e gli strumenti di politica fiscale che ad oggi all'interno dell'unione europea noi assolutamente non abbiamo come paese senza lasciare che altri paesi altri popoli possano decidere del nostro futuro ecco la strada è questa la soluzione è questa riprendere quelle che sono le leve importanti per poter autodeterminare il nostro futuro sia da un punto di vista politico ma soprattutto dal punto di vista economico e queste sono le nostre opportunità e per cogliere queste opportunità oggi serve serve la tua azione e noi siamo le nostre azioni ricordalo ciao alla prossima